L'individuazione del ciclo di lavoro mi permette di riprogettare unità produttive o minifabbriche dedicate a specifiche tipologie di domanda e capire se sono ancora necessari degli stock dove sistemi di disaccoppiamento domanda consegna e relative unità produttive di consegna reintegro. Quello che avete visto da Susanna nella parte iniziale cioè la lamiera tagliata e piegata messa nello stabilimento di Pogimonzi è un esempio di uno strumento della Lean che si chiama Supermarket che non è un magazzino perché non è gestito con le logiche push cioè si dice vabbè faccio un po' di pezzi siccome ho attrezzato la macchina ne faccio un po' in più perché tanto ormai farne 10 o farne 100 mi costa lo stesso l'attrezzaggio quindi per farli costare meno ne faccio 100 e lì all'inizio sono state discussioni perché io dicevo non è vero il costo è esattamente lo stesso dell'attrezzaggio quello che cambia è l'incidenza ma l'incidenza è un artificio contabile non fa costare meno alla fine dell'anno la produzione noi abbiamo l'illusione che possa costare meno che possa avere un'incidenza minore effettiva se potessimo aumentare la capacità produttiva sempre costantemente se io alla fine dell'anno faccio 100.000 pezzi in più allora effettivamente ho un'incidenza reale minore ma oggi non è così l'abbiamo visto dall'andamento dei volumi e quindi se io applico la logica dei centri di costo con relative economie di scala in un mondo in cui i fatturati e i volumi fanno così sto usando il mezzo giusto nel mondo nel posto sbagliato e ottengo l'effetto esattamente opposto e cioè genero quantità di materiali di semi lavorati inutili che poi devo stoccare spostare rimettere a posto caricare sul sistema informativo scaricarlo sul sistema informativo poi mi dà fastidio devo spostare devo prendere una cosa dietro ah poi una palla del muletto inforca male e lo rompe più cose ho in azienda e più le devo gestire quello aumenta i costi alla fine dell'anno non fare 50 o 60 o 100 pezzi in più perché ho attrezzato la macchina piuttosto la domanda che mi devo fare è come faccio visto che ne devo fare 10 e non 100 a far a ridurre il tempo di attrezzaggio da un'ora a 10 minuti anzi a 6 minuti cioè 10 volte in meno questa è la domanda che mi devo fare perché si può fare quando ho fatto vedere le prime volte i filmati a Susanna, Alberto, Simone di come gli attrezzaggi considerati assolutamente fatti bene potevano essere subito e immediatamente dimezzati e poi portati anche al 70% di riduzione sembrava un'eresia e invece era possibile si può fare anzi si deve fare quella la strada per ridurre le quantità ridurre i lotti quindi la terza fase poi è quindi progetto tutto questo e poi lo realizzo e quindi elimino tutte le forme di spreco che si potrebbero ancora creare lavorando tirati dalla domanda con operatori saturi solo di attività valore ecco questo è l'aspetto che poi vi farò vedere applicato usciamo proprio 5 minuti perché la piegatrice è qua davanti ed è un concetto che mi sta molto a cuore perché qua devo dire una cosa lo so che è impopolare ma bisogna che la dica in ambito confindustriale diciamo non dovrebbe essere particolarmente scandalosa nella stragrande maggioranza delle aziende in cui lavoriamo quindi faccio l'eccezione ovviamente per i presenti che non conosco anche se le aziende sembrano di tipo industriale in realtà molto spesso in produzione noi troviamo delle situazioni fortemente artigianali dove sono gli operatori che sono alle macchine o alle postazioni di lavoro che sanno come si fa il lavoro e decidono loro a che velocità andare se far bene se far male se ci sono problemi se non ci sono problemi cioè la maggior parte delle nostre aziende delega verso il basso una grandissima autonomia che in molti casi viene usata bene ma migliorabile ma fortemente migliorabile in molti altri non tanto bene i dati aggregati sulla produttività delle aziende italiane la dice lunga su questo tasto io continuo a insistere su questo tutte le volte che leggo sul Sole 24 Ore o su altre riviste il grande problema della bassa produttività italiana facciamo la tara sulla pubblica amministrazione dove il problema lì è veramente gigantesco ma anche nel settore privato siccome siamo abituati a fare comparazioni settoriali Italia, Germania, Italia, altri paesi e da noi c'è sempre una un 30% di fatturato in meno pro capite che fanno le nostre aziende rispetto alle aziende diciamo il benchmark spesso è quello tedesco io dico cavoli c'è un problema organizzativo da noi e spesso il problema organizzativo è questa crescita di volumi di dimensioni che poi però si porta dietro una grande autonomia delle persone che non può essere eliminata con i vecchi metodi del tempi e metodi e dell'avere il controllore il supervisore come esisteva nel sistema fordista-telorista no bisogna responsabilizzare le persone ma soprattutto dare loro un ritmo lavorativo senza ritmo lavorativo nessuno di noi neanche noi non solo loro neanche noi riusciamo a lavorare bene perché oggi il lavoro è terribilmente variabile si passa da un lavoro lento a un lavoro veloce da un lavoro corto a un lavoro lungo e tenere la giusta ritmica eliminando tutti gli tutti gli spazi intermedi che si creano fra un lavoro ed un altro non è facile noi questo problema ce lo siamo posti abbiamo fatto prima un esperimento con un grande tabellone abbiamo programmato tre giorni di produzione col metodo tradizionale ITLA e poi invece adottando la nostra metodologia di monitoraggio e di organizzazione intorno alla postazione di lavoro alla fine del secondo giorno avevamo fatto anche le commesse del terzo giorno 33% di miglioramento della produttività allora ci siamo detti cavoli si può fare e ITLA non è un'azienda messa male cioè non è un'azienda che partiva da una situazione di scarsa produttività grossi investimenti negli anni sull'informatica monitoraggio dei reparti attraverso i capi reparto cioè un'azienda che ha sempre fatto attenzione consultivazione delle commesse con relativi tempi per vedere gli sforamenti eccetera eppure 33% ottenuto così questo sistema lo abbiamo portato a regime e nel prossimo progetto diventerà una cosa estesa a tutto il reparto della della presso piegatura però di questo poi lo vediamo meglio dopo quindi dicevo bisogna evitare di entrare di intubare tutto quanto nello stesso nella stessa pista perché ormai i prodotti sono diversi la varietà è grande e se io cerco di pigiare tutto cose diverse in un unico tubo finisco per o cedere sui costi o cedere sui tempi o cedere sulla qualità vabbè questo acronimo non ce lo siamo inventati noi casualmente chi conosce la storia di CTQ sa che non è che ci chiamiamo CTQ perché è l'acronimo di costi tempi qualità avevamo tutto un altro nome però la fortuna ha voluto che coincidesse con questo quindi quindi a maggior parte le aziende spinge diciamo nel tubo si formano quindi degli intasamenti ritardi dovuti alle code poi dopo ovviamente siccome ci sono le code c'è il cliente che chiama e dice dammelo ho bisogno assolutamente sbrigati allora peggio sposto e faccio passare uno quello che è stato spostato ovviamente chiama il giorno dopo come me lo dovevi consegnare ieri altro spostamento e quindi noi passiamo le giornate a gestire gli sprechi il lavoro dovrebbe una volta lanciato dovrebbe andare via liscio fino alla spedizione e invece dobbiamo continuamente spingere per questo si chiama push il sistema tradizionale nel pool invece scende via da solo oppure le incrostrazioni quindi sprechi di ogni tipo ritardi vabbè insomma cose che poi dopo vedremo meglio e che ci impedisce di centrare simultaneamente i trebiottivi perché se io cedo su uno di questi tre qualcosa pago o nella strategia aziendale di lungo periodo o nel conto economico o nel servizio al cliente e quindi poi in quello che la reputazione che ho sul mercato invece la mia azienda funziona se faccio sto nei margini consegno nei tempi e faccio la qualità voluta quindi che cosa avviene fuori poi l'analisi della domanda permette di capire la distribuzione paretiana del rapporto prodotti flussi ora accelero un po' perché se no Virginia fra poco mi fulmina e quindi paretiano vuol dire 80-20 ci sono poche famiglie di prodotti che fanno grandi volumi o prodotti con cicli di lavoro più ripetitivi rispetto ad altri anche se i prodotti sono diversi fra loro e quindi ci sono alcuni flussi che meritano la realizzazione di postazioni dedicate o linee o vere e proprie minifabbriche come quella che vi ha illustrato Susanna ma che possono essere realizzate anche in modo molto più semplice e che vengono progettate con la capacità produttiva in linea con i picchi di domanda a cui l'azienda intende rispondere questo è un altro grande problema del mondo lavorativo di oggi è che i sistemi produttivi non tengono più conto dei picchi tutti si basano sulla media ma la media torno indietro un attimo qua la media andava bene qui perché le oscillazioni erano basse e quindi senza stare a fare troppi calcoli più o meno ci stavo dentro ma se invece è così io non mi devo preoccupare della media perché la media non mi dice nulla la media è quella cosa che fa sì che qui sia sempre in ritardo e qui ho la bassa produttività e pago molti più costi di quanto sarebbe il mercato mi concederebbe e quindi sono sempre strozzato o non guadagno abbastanza la maggior parte delle aziende io chi mi segue su facebook lo sa io sono un autore un sostenitore proprio in defesso del fatto che in italia bisogna guadagnare di più le aziende devono fare più profitti se non ritorniamo a fare alti margini di profitto non ci salviamo perché la competitività in calza e una parte di questi profitti deve essere reinvestita per aumentare la competitività quindi vi faccio vedere tre esempi proprio velocissimi perché il tempo è tiranno questo è un esempio di una linea produttiva qui passano prodotti anche molto complessi molto diversi l'uno dall'altro qui viene usato un metodo visto fra una parte ripetitiva e una parte invece a commessa quindi si parte da una base diciamo simile coincidente e poi prodotti in funzione dell'ordine specifico del cliente vengono personalizzati questa è un'azienda che consegnava in 60 giorni media media di 60 giorni quindi molte consegne anche a 90 più giorni adesso consegna in 7 giorni precisi sputati sempre costante non sbaglia mai un colpo e quindi ha cambiato radicalmente il suo sistema di diciamo di servizio al cliente quindi questa è un'azienda di montaggio un'azienda tipicamente di montaggio come abbiamo visto prima questa invece può essere un'azienda di vario tipo può essere un'azienda che fa piccoli montaggi manuali può essere un'azienda che fa piccole lavorazioni piccole saldature dove ci sono varie operazioni o può essere una cella di lavoro dedicata qui noi studiamo il flusso del materiale ci preoccupiamo di tutto come il materiale viene portato alla macchina o alla postazione come viene avvicinato al posto di lavoro come l'operatore lo deve muovere se lo deve muovere queste sono cose che spesso non vengono considerate noi entriamo in tante aziende e ci sono delle lavorazioni in cui ne basta uno sì però per per metterlo sul tavolo bisogna prenderlo in due e l'altro dove ah no è uno vicino poi quando ho bisogno lo chiamo lo chiami e lui cosa stava facendo prima ha un altro lavoro e quando lo chiami smette di farlo si interrompe viene lì lo aiuta poi ritorna sono perdite di produttività spaventose per non parlare delle situazioni in cui vengono sollevati i prodotti oltre il livello delle spalle sulla sicurezza ci sarebbe tutto un tema da affrontare amplissimo la sicurezza bella quella fatta bene non solo non costa di più ma fa migliorare la produttività di molto perché se io faccio non faccio fare certe operazioni faccio scorrere molto di più il materiale non do alibi per stanchezze per fatiche per problemi personali mi fa male la spalla o qui o là e quindi questo aumenta incredibilmente la produttività aziendale questi aspetti li consideriamo e riprogettiamo tutto il flusso anche forse anche di una piccola montaggio una piccola attività lavorativa a fianco di quella principale del montaggio principale poi ci sono tutto il settore dei terzisti come può essere appunto quello di Susanna o altre lavorazioni stampaggi lavorazioni meccaniche lavorazioni di plastica polistirolo mettiamoci qualunque altra cosa dove c'è un rapporto uomo macchina quindi c'è un operatore e c'è una macchina ci sono stampi o ci sono attrezzature dime ci sono una serie di cose per cui anche qui si può creare il flusso qui anzi questi sono i casi in cui di solito diciamo sempre recupero della produttività firmiamo occhi chiusi per il 30% ecco qui recupero della produttività firmiamo occhi chiusi per il 50% perché sappiamo che ci sono spazi di miglioramento spaventosi spaventosi che non vengono utilizzati e non vengono sfruttati adeguatamente poi c'è l'ultima fase la fase dell'applicazione in cui c'è la microstabilizzazione della parte fisica e informativa oltre all'addestramento del personale lo scopo è eliminare tutte le possibili forme residue di spreco quindi quando si è progettato si va poi a realizzare si coinvolgono tutte le persone si fa miglioramento già sul campo si utilizzano sistemi completamente nuovi del flusso informativo Susanna vi ha raccontato che con il cliente per cui è stato costruito quella quella minifabbrica si parlano con i cartellini ma come nell'epoca moderna con l'informatica che c'è oggi si possono fare poi si possono anche informatizzare i cartellini ma prima bisogna capire che il segnale deve partire dal luogo dove uso il materiale non dagli uffici dall'ufficio acquisti dall'ufficio programmazione dall'ufficio commerciale noi dobbiamo smettere di continuare a mantenere questa separazione fra chi lavora le informazioni e chi lavora le cose fisiche è il fisico che comanda e che deve tirare le informazioni e non subire le informazioni da parte del flusso informativo che spesso è il sistema informatico il cambiamento lo si fa coinvolgendo le persone e lavorando con loro e facendo in modo che loro si sentano a loro agio questa è vi faccio vedere solo un particolare perché ovviamente è una situazione che magari sfugge questa era un'azienda nera nera vabbè cemento olio sporco sono partiti da pochi giorni ma le altre non sono diverse da questa facciamo dipingere facciamo non è che lo facciamo l'imponiamo ma suggeriamo di fare il pavimento bianco o perlomeno molto chiaro perché? perché si deve mantenere così pulito l'ordine la pulizia la separazione di cose che servono sempre da quelle che servono raramente o con una diversa frequenza devono essere regole fondamentali l'azienda la dovete vedere appena entrate dentro dovete capire cosa funziona cosa non funziona se ci sono problemi o se non ci sono problemi lo sporco è un indicatore fenomenale delle problematiche anche a casa nostra se entrate in una cucina sporca le probabilità di mangiare bene sono basse e noi queste cose le sappiamo le abbiamo inventate noi scusate nel mondo le abbiamo inventate noi ce le siamo dimenticate tutto per la foga di andare dietro a dei volumi a delle economie di scala a cose che non esistono più dobbiamo ritornare a riscoprire quello che abbiamo sempre saputo fare lavorare bene e noi lo sappiamo fare vabbè vi avrei potuto spiegare vi potrei spiegare cosa sono gli sprechi che tipologie di sprechi ci sono però magari per non rischiare l'impiccagione nella pubblica nel piazzale della itla vado più veloce anche queste sono cose che poi avremo occasione magari in un altro seminario di affrontare se mi seguite cinque minuti ci mettiamo l'auricolare che vi abbiamo lasciato e vi porto a vedere il sistema che abbiamo chiamato Job Tutor che non fa la multa ma che aiuta a rispettare gli standard lavorativi in un'esercizionale e vi porto a vedere Grazie a tutti. Grazie a tutti.